Cari fratelli e sorelli della missione RUA del mondo intero, in questo tredicesimo giorno di digiuno chiediamo a Gesù che ci guarisca le nostre ferite fisiche e spirituali. Evochiamo allo Spirito Santo, viene o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempie della tua grazia i cuori che hai creato, o dolce consolatore dono del Padre Altissimo, acqua viva fuoco, amore santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradie i tuoi doni, sette doni, Gesù, suscita in noi la parola, sii luce dall'intelletto in fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con il balsamo del tuo amore, difendeci del nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preserva dal male, luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e Figlio uniti in un solo amore. Amen. Leggiamo del Vangelo di San Matteo capitolo undici versetto ventotto a trenta. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio gioco infatti è dolce, il mio carico leggero. Parola del Signore, lode a te o Cristo Gesù. Cari fratelli in questo Vangelo Gesù sappiamo che lui è la pace e sappiamo che è anche il ristoro delle nostre anime, ristoro fisico spirituale e rivolgerci a Dio con tutto il cuore. Il pentimento, la conversione del cuore è la via per conoscere il Dio della misericordia e la comprensione, il Dio vero. Il digiuno per la gloria di Dio ci rende umili i mansueti così che possiamo ricevere la guarigione da Dio e ad essere ricolmi del suo amore. Dio ci dice attraverso le parole del profeta Gioelle. Queste parole sono forti perché è di un popolo, di un popolo che sta cercando lui la guarigione. Dice, perdona Signore al tuo popolo e non espori la tua eredità al vituperio e alla derisione della gente perché si dovrebbe dire fra i popoli dove è il loro Dio. Offerta e liberazione per il Signore vostro Dio. Suonate il trompa al Sione, proclamate il digiuno, convocate la donanza solenne. Come possiamo vedere questo popolo cerca la liberazione, guarigione e tutti noi sappiamo che l'unico che può guarire e liberare è il Dio onnipotente tramite il suo figlio e possiamo chiedere che prima ci allontani dal peccato. Il peccato ci allontana dal disegno di Dio, dalla volontà del Padre, ci rende rebelli, ma piano piano anche distrugge il corpo, ma il digiuno e la preghiera ci aiutano a riposare tra le braccia di Gesù crocifiso. Colui che le ha le braccia aperte per noi sulla croce per accoglierci sempre. Dobbiamo avere fiducia. Ogni volta che abbracciamo a Gesù il tuo cuore si riempirà della grazia di Dio e anche della guarigione. lui ti dà un milione di abbracci, quello che hai bisogno, quell'amore che guarisce, quel vero amore, quell'umano, ma anche se hai tua mamma, babbo, i fratelli, sorelle, mogli, marito, sono amori umani che non possono guarire come quelli di Dio. Da Gesù crocifisso riceverai l'amore di cui hai bisogno per vivere il paradiso e la terra, quella pace che tu cerchi. Ricordo questa testimonianza di una persona che vive in Stati Uniti. Per me è stato il digiuno, un tempo di abbandono e di conversione. Mi sono ricordato quelle parole di Gesù nel Vangelo di San Matteo 16. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghe se stesso, prende la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo, si guadienerà il mondo intero e poi perderà la propria anima. O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima, poiché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo e con i suoi angeli renderà ciascuno secondo le sue azioni. Parola di Dio del Signore. Gloria a Dio, Signore Gesù. Questa parola che questa signora meditava, che ha fatto dentro di lei, ha fatto cambiare il cuore. Le ha detto adesso voglio che tu vinci la paura. Vuole che vinci la paura perché devi prendere la tua croce e seguirmi. Perché prendere la croce, rinunciare a te stessa e rinunciare al peccato, rinunciare alla paura, rinunciare anche all'orgoglio. E guarda queste parole del Vangelo come guidava questa signora e così ci può guidare anche noi. Dice la signora rinunciare a se stessi. Volevo vedere la gloria di Dio in me e nella mia famiglia e questo si sarebbe potuto realizzare solo se avessi dato la mia volontà nelle male della volontà divina. Con l'aiuto degli consigli dei miei cari sono riuscito a abbandonarmi, a rinunciare alla soberbia, a rinunciare all'orgoglio. Mi ricordava queste parole di Gesù. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini anche io li riconoscerò a lui davanti al padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinegherà davanti agli uomini anche io rinegherò a lui davanti al padre mio che è nei cieli. Matteo 10. Il timore che non sarei durata, che avrei avuto fame, è scomparso quando ho ricordato le parole di Gesù. Non di solo pane viverà un uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio e così ho vinto il temore e anche l'orgoglio. Ero gelosa e Gesù mi ha liberato di questo demonio. Ricordo queste parole anche del profeta Isaia, dice la signora che mi ha guidato. Profeta Isaia capitolo 55. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. E come i cieli sono alti al di sopra della terra, così anche le mie vie più alti delle vostre vie. I miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Così mi sono reso conto che Gesù è capace di vincere l'orgoglio, la soberbia e anche la gelosia. Io ho potuto vedere con i miei occhi, dice questa donna, da Stati Uniti, che io ero una persona incatenata ma adesso libera. Non avevo pace e adesso la pace. Non ero fisicamente bene e adesso sto bene. Gesù mi ha liberato fisicamente e spiritualmente. Un'altra donna da Londra ci dice ho avuto una guarigione fisica e spirituale. Ero stanca cronicamente e avevo diabete. Il mio babbo quando l'ho detto dopo 40 giorni di digiuno che lui è medico e mi ha detto che sono guarita, non ci credeva. Quando è venuto a visitarmi si ha reso conto che sì, era guarita perché Gesù mi ha dato anche questa forza spirituale. Posso dire che mi sento meglio che mai, sia spiritualmente che fisicamente. E voglio ringraziare a Dio perché ha avuto tanta tanta bontà con me. Grazie per l'amore, per la pazienza, per la saggezza e per tutto quello che ho ricevuto dai miei cari amici sacerdoti o della missione Rua. Guardate come Gesù guarisce fisicamente e spiritualmente a ciascuno di noi e ci invita a un cambio. Questo cambio lo possiamo dare solo con Gesù. Dice San Giovanni Crisostomo, il digiuno dona una grande forza all'anima, conferisce grande saggezza, rende le persone angeli e permette loro di combattere contro i poteri invisibili. Ma tutto questo non soltanto attraverso il digiuno, anche con la preghiera e la santa comunione. Ecco come San Giovanni Crisostomo può illuminarci con queste parole, perché ci rende al coloro che facciamo il digiuno, ci rende le persone angeli e permette loro di combattere contro le poteri invisibili. Sono cose che noi non possiamo vedere. Questo spirito di malattia, questo spirito di pigrizia spirituale, questi spiriti che noi non lo vediamo e ci sono, che invadono i mezzi di comunicazione o anche la famiglia, i vecini e le prosi che visitiamo ogni giorno. Per questo abbiamo bisogno di questa guida. Il Padre Celestiale sicuro ci illumina per poter arrivare a questa guarigione fisica e spirituale con aiuto delle sacramenti che Gesù ci ha dato, della confessione, dell'Eucaristia, dell'adorazione e anche sacramenti dell'unzione dei ammalati. Chiediamo al Signore questa grazia in questo giorno del tredicesimo. Padre Celestiale, nel tredicesimo giorno di digiuno riempino i nostri cuori dell'amore del tuo figlio crocifisso e attraverso le sue sante piaghe guarisci le nostre ferite corporee e spirituali. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Padre, figlio, lo Spirito Santo, discenda su di noi e su di voi, rimanga sempre. E la Vergine Maria vi benedica e vi copre col suo manto. Amen. 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 Amen.